di tanza in file net che è un'azienda che è stata acquisita nel 2007 mi occupo da ormai più di dieci anni di problematiche di enterprise content management questa mattina in questa presentazione più o meno nella prossima ora poi magari cercherò di lasciare anche uno spazio magari in dieci minuti per eventuali domande vedremo come le componenti software dell'offerta IBM in particolare relative all'enterprise content management possono aiutare a trattare queste informazioni queste informazioni non strutturate a questi documenti in un ambiente appunto social quindi favorendo la collaborazione lo scambio di informazioni e il trattamento corretto delle stesse ora qual è la visione IBM relativamente all'enterprise content management questo è un po il riassunto di del concetto base che se i miei documenti le mie informazioni sono semplicemente archiviate quindi content a riposo sono un costo perché le devo mantenere sono costi di storage costi di recupero quando vado a cercarle soprattutto se non sono organizzate nella maniera corretta content in motion che poi era anche parte del titolo della presentazione vuol dire se le mie informazioni sono in grado di farle viaggiare distribuire alle persone nel momento giusto per prendere delle decisioni in maniera più rapida più efficace a questo punto diventano un valore quindi le sfrutto al meglio e per fare questo percorso in questa diciamo simpatica visualizzazione grafica vediamo un po i cinque motivi di cinque temi principali del content management quindi per cominciare bisogna evidentemente catturare raccogliere le informazioni cosa vuol dire catturare le informazioni diciamo che soprattutto qui in italia ancora diverse realtà aziendali hanno ancora un grosso una grossa circolazione per esempio di informazioni cartacee quindi ci sono delle componenti software anche se non ne parleremo in dettaglio che servono proprio a dematerializzare questa carta quindi per esempio a gestire gli scanner in una modalità intelligente in modo da catturare automaticamente quante più informazioni possibili per esempio tramite optical character recognition piuttosto che form recognition che vuol dire che lo strumento in grado a fronte di una struttura grafica che viene riconosciuta sulla pagina di farne il match quindi il confronto la corrispondenza con un template predefinito prima e quindi recuperare con maggior precisione quelle che sono le informazioni contenute nel testo della pagina quindi il tiff jpeg risultante potrà essere immediatamente arricchito di queste informazioni in forma digitale naturalmente catturare l'informazione significa prima di tutto classificarla correttamente vedremo che una funzione veramente l'abc del content management sta proprio nella classificazione cioè stabilire in fase di preparazione del mio sistema che tipologie di documenti andrò a trattare perché il documento elettronico non resta solamente un file binario che poi posso magari modificare con delle applicazioni di authoring ma viene arricchito corredato di una serie di proprietà o indici detti anche metadati che in sostanza mi definiscono che tipo di documento è e quali sono le sue caratteristiche proprio perché è quel tipo di documento mi spiego con un esempio se io ho un documento word questo documento word con il suo formato se questo documento rappresenta un contratto un sistema documentale mi proporrà una classificazione dove alla tipologia contratto è associato un insieme appunto di metadati per esempio la durata di validità del contratto il fornitore col quale sto stabilendo questo contratto chi l'ha firmato queste proprietà poi ne parleremo un po' più in dettaglio mi aiutano per esempio in fase di ricerca ecco perché in un sistema documentale posso fare delle ricerche tipo restituiscimi tutti i contratti relativi a questo fornitore stipulati nell'ultimo trimestre per esempio quindi cattura vuol dire catturare fisicamente quando è il caso non solo da carta ma anche da sistemi terzi che magari hanno generato questi documenti elettronici ma appunto risiedono su questi sistemi sistemi di posta elettronica share di rete vedremo delle componenti software che aiutano in questa prima fase una volta che le informazioni sono state raccolte e classificate nella maniera più corretta o più congrua per quello che il business della mia azienda cosa vuol dire attivarle attivarle significa metterle in movimento cioè se questo contratto quando viene stipulato deve per esempio essere sottoposto a un processo di approvazione attivare il contenuto vuol dire che non è l'utente che si preoccupa di cercare il documento inviarlo magari via posta elettronica a chi lo deve approvare ma è il sistema stesso che riconoscendo la tipologia di documento contratto e il fatto che deve essere sottoposto a un certo processo di approvazione perché magari il suo stato corrente è ancora draft provvederà a veicolarlo con mezzi informatici sulle postazioni delle persone che dovranno effettuare le varie attività parliamo quindi di workflow documentale a questo livello e ho parlato di contratti ma anche per esempio una fattura passiva nel momento in cui viene riconosciuta come tale potrebbe essere sottoposta a un processo di verifica approvazione magari anche pagamento un'altra modalità di attivazione è quella che riguarda in sostanza una tematica che negli ultimi anni è stata riconosciuta dagli analisti che è il cosiddetto case management case lo potremmo tradurre come pratica o procedimento cosa vuol dire vuol dire che il workflow documentale mi aiuta quando il processo è completamente formalizzabile di fatto quando disegno un workflow documentale disegnerò un grafo orientato dove magari le varie palline rappresentano le attività ma devo appunto definire una struttura per cui il mio processo è in grado di eseguire dell'attività soltanto se chi lo ha disegnato le ha definite completamente non solo in un processo standard o tradizionale l'operatore è un po come se lavorasse col paraocchi mi vengono assegnate delle attività mi si dice verifica che questo contratto rispetti le nostre diciamo policy interne lo faccio e lo mando avanti quindi è un po appunto il concetto informatizzato della catena di montaggio un sistema di case management invece è molto più flessibile e soprattutto fornisce all'operatore che deve decidere l'esito di una certa pratica un contesto molto più ricco e molto più diciamo completo di quella che è la pratica nel suo complesso ora vi chiedo un po di pazienza adesso lo spiego in teoria velocemente dopo vedremo più in dettaglio anche come effettivamente questo prodotto ci aiuta una volta che i contenuti i documenti sono appunto in movimento quindi distribuiti alle persone che ne hanno bisogno ci sono delle componenti software che mi aiutano a vabbè qui socializzare i documenti non è una traduzione particolarmente brillante ma in sostanza mi aiutano a collaborare quindi a condividere informazioni a richiedere per esempio dei pareri a altre persone e soprattutto vedremo a questo livello una serie di connettori o integrazioni con gli strumenti software per esempio della suite lotus che è il motivo poi per cui mi hanno chiesto di fare questa presentazione la fase di analisi è una fase un pochino più come dire dove si entra nel merito del contenuto testuale dei documenti fino a questo livello quindi le prime tre fasi diciamo così il documento è visto come un elemento atomico cioè io so che è un contratto per esempio che ha certe proprietà ma non mi interessa o meglio il mio software non ha interesse nel sapere cosa c'è scritto dentro gli strumenti di content analytics invece si attivano proprio sul contenuto testuale e quindi mi aiutano a estrarre dei concetti che sono presenti nel testo e eventualmente a formalizzarli come nuovi metadati quindi parliamo qui di diciamo riconoscimento del linguaggio naturale e tutta una serie di tecnologie avanzate che mi aiutano soprattutto quando ho delle grosse quantità di informazioni non strutturate quindi del testo che sarebbe costosissimo o poco pratico andare a analizzare diciamo manualmente la parte di diciamo governo o ILG che sta per information life cycle governance è una diciamo tematica che soprattutto nelle grosse aziende si sta diciamo evidenziando in sostanza fino a questo momento diverse aziende non si pongono il problema della cosiddetta retention cioè io produco delle informazioni le classifico correttamente le utilizzo nel mio business e poi le lascio lì allora da un punto di vista diciamo psicologico pensare che le mie informazioni le manterrò vita natural durante e rassicurante perché dico se ho bisogno di qualcosa la troverò sicuramente ma questo ha dei costi allora ci sono delle stime che dicono che in sostanza in un'azienda beh le stime erano sul mondo bancario ma probabilmente non siamo così distanti anche nelle altre realtà ogni petabyte di informazione che io mantengo che mantengo solo diciamo quindi storage costi di infrastruttura e così via ogni petabyte in un anno mi costa circa 3 milioni di euro quindi se pensiamo che ad esempio una grossa banca svizzera che poi è un caso di studio per cui è stata proprio realizzata una soluzione di governance di questo tipo produceva qualcosa come 5 petabyte all'anno vuol dire che se anche se anche con questo diciamo governance io sono in grado di individuare una percentuale di questi petabyte e riconoscere che non mi è più utile quindi cancellarla i risparmi diciamo la soluzione si ripaga veramente in poco tempo quindi questa slide introduttiva mi mostra che trattare le informazioni nella maniera diciamo più corretta e soprattutto entrare come dire nel merito di quello che rappresentano può aiutare la mia azienda a lavorare meglio e con costi ridotti e con più efficienza qui abbiamo invece in questa in questa slide che non ho fatto io ma ho recuperato da una diciamo presentazione di quelle che sono le varie tematiche attinenti al cosiddetto social business vediamo che ci sono delle problematiche che sono cross tra tutte le diciamo i verticali aziendali e che vengono a richiedere delle azioni da parte della mia azienda allora per diverse di queste azioni esiste una componente software della piattaforma ECM Enterprise Content Management che mi aiuta per esempio relativamente alla gestione della conoscenza come ho accennato prima è chiaro che un repository quindi chiamiamolo un sistema di content management correttamente implementato mi aiuta a classificare correttamente la mia conoscenza e quindi è un po' il livello da cui partire quindi implementare una soluzione documentale vuol dire mettere a disposizione il mio patrimonio informativo a tutta l'azienda nella maniera diciamo più corretta per quanto riguarda un problema ad esempio della diciamo esplosione dei sistemi di posta elettronica c'è una soluzione specifica IBM che è il content collector che mi consente, beh detto in due parole mi fa un monitoraggio di tutte le mail che passano sul server ed è in grado secondo certe regole che poi spiegheremo di archiviare automaticamente quelli che sono i messaggi o anche gli allegati all'interno di un repository documentale ottenendo quindi uno scarico quindi a livello di storage fa una archiviazione e quindi alleggerisce il carico in termini di costi di storage ma soprattutto la cosa più importante è che se queste regole le scrivo bene sono in grado di categorizzare correttamente la posta che mi arriva senza richiedere per esempio l'intervento dell'operatore faccio un esempio se io stabilisco che una certa inbox diciamo collettiva è quella che mi raccoglie le fatture che arrivano dai fornitori potrò archiviare correttamente e classificare come fatture all'interno del repository questi allegati e quindi ottenere anche l'automazione di processo di cui accennavo prima perché la fattura sarà caratterizzata da certe proprietà che mi aiutano poi nel trattamento infatti una caratteristica del repository IBM è il cosiddetto active content significa che qualsiasi evento su un oggetto documentale viene rilevato nativamente dal framework della piattaforma e può essere collegato quindi può fare da trigger può scatenare un processamento di un certo tipo per esempio se io ho una cartella di progetto potrei stabilire con questo meccanismo che ogni volta che arrivo a un nuovo documento il capo progetto viene notificato che è arrivato sto documento se questo documento magari è uno statement of work viene notificato anche il capo tecnico e così via significa che se le mie informazioni le classifico correttamente anche le azioni che poi vado a prendere saranno le azioni diciamo più efficaci per gestirle dal punto di vista qui si parla di non vorrei dire consumerizzazione perché è veramente orribile però in sostanza succede che in diverse aziende sempre più frequentemente l'impiegato diciamo il dipendente si porta le sue proprie periferiche allora IBM ha realizzato o meglio si è associata a uno standard che è questo CIMIS che consente di fatto consiste di una serie di servizi standard per esporre quindi poter fruire dei contenuti nei repository da tutta una serie di periferiche in modalità standard quindi per esempio diversi partner hanno realizzato delle applicazioni viewer per cui dal mio smartphone posso accedere tranquillamente a quelli che sono i documenti contenuti nel mio repository documentale la cosiddetta social intranet che si concretizza nella suite Lotus per esempio nell'offerta connections viene associata a quella che è la parte documentale da un bundle che è questa collaboration edition dove un apposito connettore mi consente di esporre i miei contenuti documentali all'interno di un ambiente connection anche di questo vedremo poi qualche dettaglio dal punto di vista della business transformation ho accennato prima al case manager che mi consente e vedremo poi come di creare rapidamente delle soluzioni dei verticali applicativi che hanno una base documentale ma anche una base di di processo relativa a questi procedimenti complessi mentre per quanto riguarda ad esempio l'analisi del social sentiment quindi analisi di percezione del brand soddisfazione dei clienti il content analytics è già utilizzato presso diversi clienti perché chiaramente poter estrarre come dicevo prima questi concetti che sono presenti nel testo ma non sono stati formalizzati diventa molto importante allora prima di vedere nel dettaglio le singole componenti che ho accennato definiamo rapidamente che cosa fa un sistema di content management possiamo assimilarlo a un database di informazioni non strutturate quindi un database relazionale mi chiede di definire lo schema del mio database le mie tabelle e ogni diciamo ogni tabella continua una serie di record i record di un content management sono un documento più le sue proprietà o metadati ecco che la funzionalità base diventa quella come accennavo prima di classificazione dei contenuti cioè a dire creare una sorta di tassonomia dove in sostanza io prevedo prima o anche durante come evoluzione le tipologie di documenti che vado a trattare e quali sono i dati che le caratterizzano in maniera particolare naturalmente ci sono poi delle funzionalità di manutenzione diciamo così quindi anche qui il versioning quindi la capacità di mantenere la storia delle diverse versioni dei documenti e un'altra funzionalità base gestione del life cycle significa che a ogni tipologia di documenti posso associare per esempio una sequenza di stati e le transizioni fra i vari stati per esempio un contratto che da draft passa a approvato oppure a pubblicato vengono comunque rilevate dal framework di rilevazione eventi e possono dar luogo anche queste per esempio a notifiche automatiche o a spostamenti magari del documento per pubblicarlo sulla mia internet le funzioni di ricerca sono un'altra caratteristica fondamentale la ricerca come dicevo prima si può fare o sulle proprietà quindi criteri del tipo vediamo tutte le fatture il cui importo è superiore a 1000 euro oppure anche sul contenuto testuale quindi già la suite base ha un'indicizzazione che mi consente per esempio di richiedere tutti i manuali operativi che contengono la parola IBM per esempio un'altra caratteristica come dicevo prima è quella di disseminare questi contenuti e quindi gestire o dei workflow o dei casi delle pratiche e naturalmente c'è una funzionalità di sicurezza per cui l'accesso ai miei documenti è governato dalla definizione di liste quindi ACL access control list dove in sostanza gli utenti o i vari gruppi possono accedere solo a quelle informazioni che l'amministratore del sistema ha pensato che fossero opportuno diciamo che loro potessero accedervi tutti come dire tutte le azioni operazioni sugli oggetti documentali possono essere tracciate e quindi dar luogo eventualmente a un audit che poi è importante per esempio in ambiti dove richiesta una certa compliance quindi dimostrare per esempio che un certo documento non è stato toccato se non da chi aveva diciamo diritto di farlo la classificazione questo l'ho già accennato prima ma in sostanza un esempio di object model che è comunque espandibile sul mio sistema documentale potrebbe essere o una cartella le cartelle nei sistemi documentali in realtà sono cartelle logiche non hanno una corrispondenza con le cartelle del file system quindi la mia cartella rappresenta per esempio una istanza di richiesta di prestito la cartella può essere a sua volta arricchita di proprietà e quindi potrei dare l'id del prestito e chi è il cliente il mio modulo di richiesta che potrebbe essere magari una form compilata su web a sua volta è caratterizzata da una classe che è richiesta prestito le cui proprietà potrebbero essere il contenuto e quindi il documento per esempio la scansione di questo modulo o il pdf della form web e magari il cliente che quindi poi potrebbe fare da chiave per recuperare ad esempio tutte le richieste di questo particolare cliente un altro documento di un'altra classe potrebbe essere invece la mia policy aziendale relativamente ai prestiti e questo magari punta a una serie di versioni che sono dei documenti office anche qui le proprietà sono differenti in sostanza quindi io vado a definire l'infrastruttura delle mie informazioni in termini di documenti ma anche di metadati associati a ciascun documento un'ultima caratteristica è quella di definire dei cosiddetti documenti contentless che in sostanza sono una raccolta di metadati che possono fare magari da diciamo oggetto di collegamento tra un'anagrafica ad esempio come in questo caso e il mio sistema documentale quindi a questo punto io potrò definire per esempio un life cycle che dice che la mia richiesta di prestito attraversa diversi stati e ogni stato può essere diciamo attivato solo dall'utente che ne ha diritto allora questo è un po' diciamo un'estensione del concetto di cui ho parlato prima sulla archiviazione quindi per catturare l'informazione non basta catturarla tutta e tenerla ma chiaramente come posso io permettermi di cancellare qualcosa allora qui il ragionamento è un po' visto diciamo all'inverso cioè allora se io conosco quali sono le informazioni che devo tenere perché diciamo per proteggermi da dispute legali o perché ci sono delle norme che mi impongono di farlo quindi se conosco quali sono queste informazioni e se conosco anche quali sono le informazioni che per me hanno un valore di business e so per quanto tempo lo mantengono allora tutto il resto lo posso buttare è chiaro che detto così sembra semplice in realtà questa è la cosa complicata allora ci sono degli strumenti software che mi aiutano a definire per esempio i cosiddetti hold cioè se c'è una disputa che insiste su un certo documento che può essere una fornitura un contratto una richiesta d'acquisto allora automaticamente il documento se ne impedisce la cancellazione fin tanto che la disputa non si è conclusa per quanto riguarda la parte se ha diciamo un'utilità di business qui chiaramente interviene la mia classificazione e il fatto che devo averlo classificato nella maniera più corretta mentre per quanto riguarda le disposizioni di normative anche qui ci sono dei chiamiamoli workflow ma in sostanza degli automatismi che mi consentono di applicare delle policy di retention particolari su ciascun documento a questo punto se ho fatto diciamo se questa infrastruttura è stata costruita correttamente potrò andare a vabbè magari non cancellare subito ma anche archiviare su periferiche per esempio a basso costo e in seguito andare a eliminare perché come si dice qua mantenere roba che non mi serve significa spendere dei soldi tra l'altro per esempio in certe dispute è capitato che un'azienda è stata condannata perché ha conservato dei documenti oltre il limite in cui invece li doveva cancellare allora uno strumento che aiuta in questa fase di scrematura delle mie informazioni è il content collector in sostanza il content collector dal punto di vista informatico si compone di una serie di scusato sbagliato pulsante di connettori assorgenti eterogene sistemi di posta aziendale file share ambienti collaborativi e attraverso la definizione di una serie di regole mi consente di raccogliere l'informazione quindi il documento binario eventualmente applicare una classificazione automatica questo modulo è un modulo che lavora a differenza del content analytics che ho accennato prima che entra nel merito della frase della struttura della frase questo lavora solo in termini statistici però è comunque molto accurato quindi in sostanza cosa faccio io fornisco al sistema un set di documenti esempio dicendo questi sono esempi di fatture questi sono esempi di contratti questi sono esempi di reclami e lui diciamo costruendo delle firme di tipo statistico è in grado con una buona precisione di indirizzare sulla classe corretta i documenti che sta trattando altrimenti se la confidenza non è diciamo abbastanza elevata chiederà l'intervento dell'operatore in sostanza comunque il content collector ha un aspetto di raccolta da sistemi eterogenei e poi un aspetto di classificazione in modo tale che idealmente io andrò a disporre nei punti più corretti della mia struttura di repository i vari documenti o addirittura certi documenti potrei decidere che non hanno interesse per me e quindi li butto via l'ultima versione aggiunge tra le varie sorgenti da cui può catturare informazioni anche i BM Connections questo è interessante perché perché per esempio se in connection io ho una pagina di un wiki il connettore è abbastanza intelligente da recuperare la struttura della pagina e quindi tutte le varie componenti che vengono archiviate possono essere poi ricostruite con un xslt che è specifico di ogni applicazione di connection quindi un wiki avrà il suo xslt un blog avrà il suo e così via in sostanza quello che è la mia vista visualizzazione dall'ambiente live è riprodotta diciamo in maniera che sia comprensibile quindi non è esattamente identica ma mantiene la struttura degli oggetti all'interno dell'archiviazione questo è una differenza rispetto ad altri sistemi di archiviazione che non conoscendo non preoccupandosi di che tipo di oggetti stanno trattando archiviano tutto e poi diciamo li recupero un pezzo alla volta quindi perdendo completamente il contesto a questo punto per esempio se io faccio una ricerca sui contenuti archiviati ad esempio di un thread di discussioni il match mi ritorna l'intera struttura del thread non solo il post singolo posso anche sfruttare le caratteristiche di deduplica del native del repository documentale e quindi anche qui ottenere dei vantaggi perché diciamo l'occupazione degli oggetti è mantenuta al minimo indispensabile un'altra differenza rispetto ad altri diciamo oggetti software di altri fornitori è che il content collector non fa una cattura in tempo reale allora alcuni diciamo oggetti della concorrenza nel momento in cui c'è un evento su connection vanno ad archiviare il nuovo oggetto creato mentre il content collector viene schedulato periodicamente una sorta di spazzolamento dell'ambiente che recupera tutti i dati nuovi uno potrebbe pensare che la cattura in tempo reale sia superiore in realtà il grosso diciamo svantaggio è che immaginate che il mio sistema abbia un malfunzionamento e venga spento per un giorno quando riparte l'archiviazione in tempo reale tutti gli oggetti creati nel giorno in cui è stato spento non vengono recuperati mentre il content collector alla prossima schedulazione li andrà comunque a recuperare il fatto che ci sia una logica di task flessibile significa che io posso definire diverse regole quindi qui ne abbiamo un esempio iniziale in cui decido che tipo di oggetti vado a archiviare e poi come li tratterò e che tipo di diciamo anche retention potrò mantenere sugli oggetti stessi quindi potrei pensare che un forum di discussione su un certo prodotto vengono mantenuti per tre mesi per esempio mentre un forum interno dove si discute di altre cose magari più importanti li mantengo più a lungo quindi abbiamo parlato di in sostanza in questo momento di classificazione e cattura delle informazioni una volta che le ho catturate e le ho disponibili nei miei repository devo accedervi vediamo quindi alcune componenti che mi consentono di accedere a queste informazioni abbiamo parlato del CIMIS Content Management Interoperability Services è uno standard approvato dall'Oasis in cui in sostanza il repository documentale espone dei servizi web per cui qualsiasi applicazione che è in grado di parlare tra virgolette in una modalità REST può recuperare documenti o inserirne di nuovi ci sono diversi partner che hanno già costruito applicazioni basate su questo c'è un supporto diciamo convinto da parte di IBM anche nelle nuove piattaforme per esempio BPM 8.0 aggiunge tra i vari widget inseribili sul BPM portal anche una vista su ambienti CIMIS anche il portale fa la stessa cosa l'unica attenzione che segnalo è che il CIMIS essendo uno standard diciamo multi repository quindi non solo repository BPM ma anche altre ovviamente ragione in termini di minimo comune denominatore delle funzionalità cioè espone quelle funzionalità proprio di base che tutti i sistemi documentali mettono a disposizione quindi retrieve del documento e upload se uso CIMIS quindi devo essere consapevole che le funzioni più avanzate per esempio l'object model estensibile che dicevo prima non sono direttamente accessibili però per il resto è sicuramente un facilitatore questo è un esempio di web application che poi è quella fornita col prodotto che implementando la metafora di diciamo una sorta di gestione risorse mi dà accesso a una porzione del repository documentale secondo una navigazione a cartelle in questo caso ma potrebbe essere una ricerca diretta e mi consente di fare quelle operazioni quindi come check in check out l'attivazione di un processo la modifica delle proprietà sui miei oggetti documentali quindi in sostanza lavoro sui miei documenti come se fosse una share di rete ma ho tutta la gestione della sicurezza e della diciamo profilazione a cui accennavo prima un'altra modalità di accesso è un'integrazione ulteriore con l'ambiente connections che sfrutta il meccanismo delle custom library quindi in sostanza all'interno dell'ambiente connection io posso definire come custom library un repository documentale IBM qui vediamo la coppia di repository attualmente disponibili e a questo punto posso anche aggiungere nuovi diciamo documenti dove i metadati del documento singolo verranno richiesti in base alla classificazione che è sempre quella mantenuta dal repository quindi il catalogo di classificazione è sempre quello del repository un altro esempio di accesso è quello dato da un'integrazione con le applicazioni desktop qui abbiamo un esempio di office vedete che anche qua dall'interno di word posso navigare all'interno del mio repository eseguire le operazioni fondamentali quindi fare un check-in direttamente dall'interno di word per creare una nuova versione del documento e qui vediamo evidenziata la parte diciamo in più quindi è un documento word ma siccome è un documento del mio repository ancora posso gestire tutti i metadati che sono associati a quella particolare classe documentale a breve verrà presentato una nuova diciamo modalità di accesso che è quella data dal cosiddetto content navigator è un ambiente sempre web based in cui in sostanza IBM ha qualcuno dice finalmente dato la possibilità di accedere a tutti i suoi diversi repository documentali in un ambiente omogeneo e indifferentemente sia da web quindi da desktop che da interfaccia mobile ci sono poi tutta una serie di caratteristiche per esempio un pezzettino di content analytics è integrato nell'interfaccia standard e quindi posso andare a fare delle ricerche sulle proprietà come dicevo prima sul contenuto testuale o anche sui concetti che il content analytics mi ha estratto dal testo stesso è costruito su standard open e quindi anche estendibile con diciamo widget custom e in sostanza è un po' quello che diciamo rappresenterà la modalità principe di accesso ai repository documentali da qui in poi prego indicazione del cimis in questo contesto significa che teoricamente con il bm content management posso accedere anche a cimis compliant ad altri repository allora significa che sì siccome c'è una widget cimis compliant io potrei con questa interfaccia accedere ad altri sistemi non specificatamente direttamente sì esatto anche se allora naturalmente alcune caratteristiche diciamo che il widget cimis è una vista chiamiamola limitata a quelle che sono le funzionalità cimis come dicevo prima comunque sì esatto sì 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 ok quindi abbiamo visto raccogliere le informazioni accedervi come facciamo a disseminarle o distribuirle nella modalità più efficiente parliamo di active content cosa significa che indipendentemente da quale sia il sistema che mi ha originato chiamiamolo documento o l'oggetto nel momento in cui io lo vado a non archiviare a inserire quindi creo un oggetto sul mio repository questo evento viene rilevato dal sistema e quindi può dar luogo se ad esempio è arrivato un reclamo può dar luogo a un processamento che è indipendente dal canale attraverso cui questo oggetto è stato generato questo come dicevo prima è una capacità general purpose quindi non è limitata all'arrivo di nuovi documenti ma come dicevo prima anche all'inserimento nelle cartelle piuttosto che alla modifica di proprietà o al cambiamento di stato se ho delle esigenze un pochino più complesse una nuova proposta relativamente nuova perché è stato presentato a fine 2010 è la piattaforma di case management si compone di tre macro funzionalità quindi abbiamo un ambiente di disegno della mia soluzione per gestire questo procedimento un ambiente di run time il cui layout viene generato in maniera automatica a seconda di come ho definito l'object model della mia soluzione e una parte di analytics che mi consente di effettuare quelle analisi sul contenuto dei documenti di cui dicevamo prima dal punto di vista tecnologico raccoglie un po' quello che è diciamo il meglio del software group IBM quindi sicuramente si appoggia a una piattaforma documentale non solo per gestire i documenti ma anche alcuni oggetti interni integra parti di collaboration per esempio same time entry e embedded nella piattaforma integra le funzionalità di workflow o BPM integra anche allora diciamo che quando dico integra vuol dire che se la licenza case management per l'uso all'interno della soluzione comprende tutti questi prodotti naturalmente sono anche opzionali se ho bisogno di un motore di regole che nello specifico è ilog lo posso installare collegare e utilizzare se non ne ho bisogno non lo installo e quindi non è che è una complessità obbligatoria è una potenzialità che posso sfruttare e integra questi strumenti appunto di monitoraggio quindi in sostanza all'interno del case design quindi del solution builder vengo guidato nella costruzione di un object model per cui se facciamo un esempio non so se il mio procedimento rappresenta un un claim assicurativo una richiesta di rimborso a seguito di un incidente per esempio a livello di soluzione dovrò stabilire quali documenti e quindi quali classi di documenti posso dover trattare quali sono i ruoli delle persone che dovranno fare qualcosa quindi avrò un 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 operatore del customer center per esempio un liquidatore potrei integrare anche dei ruoli terze parti per esempio il perito poi dovrò stabilire quali sono le varie diciamo attività non in termini di processo ma in sostanza le macro attività che potrei dover svolgere quindi potrei dover valutare un danno richiedere un intervento del medico se c'è stato non so un ferito e così via ecco già questa definizione vedete che non tutte le attività potrebbero rivelarsi necessarie quindi anziché disegnare un processo gigantesco dove in maniera rigida io devo valutare ogni possibile combinazione nel case manager i task vengono definiti su una struttura flat e poi l'operatore che in base al contesto quindi in base per esempio alla richiesta o ai dati che raccoglie valuta se attivare o meno i task nel momento in cui ho terminato il disegno della soluzione il runtime viene generato automaticamente questo è un esempio del runtime standard che può essere generato vedete che in un unica in un layout di pagina io ho dei dati diciamo strutturati relativi alla mia pratica il cliente il numero di telefono e così via una lista di documenti allegati la possibilità di visualizzarli immediatamente e ho anche una vista come dicevo complessiva su quali sono le attività che sono già state svolte quelle che ancora non sono partite e da qui posso aggiungere nuovi task e quindi per esempio se come liquidatore mi rendo conto che non lo so effettuando una ricerca che quel cliente è il decimo sinistro nell'arco di due anni potrei attivare un task che magari fa una verifica su una potenziale frode tutta la storia quindi tutte le operazioni effettuate mantengono diciamo l'operatore che le ha effettuate e qua si vede un po' poco ma vedete questo pallino verde è un indicatore di presenza online vuol dire che ad esempio se io vedo che un certo documento è stato inserito o è stato commentato da un operatore e voglio un chiarimento posso aprire immediatamente una chat online con questo operatore e quindi al volo in maniera non strutturata richiedere appunto questa informazione quindi questo è giusto un come dire un flash molto veloce però questo tipo di soluzione è molto utile appunto nei casi in cui il procedimento è complesso e richiede una valutazione da parte umana è chiaro che se il mio procedimento è automatizzabile non serve una soluzione di questo tipo ma è sufficiente appunto un workflow classico parliamo del content analytics quindi qui mi piace questo termine distillare le informazioni perché le informazioni sono già presenti nei miei documenti ma immaginate per esempio dei rapporti della polizia su incidenti è chiaro che se ho 5.000 rapporti al giorno come capita in America per esempio è difficile che qualcuno si metta a leggere tutti o che possa capire o rilevare dei trend generali da questi rapporti testuali per esempio in America l'NHTSA che è l'ente della sicurezza autostradale utilizza content analytics perché questi rapporti li passa appunto al content analytics e da una frase in linguaggio naturale vengono estratti dei concetti per cui per esempio si può trovare e indagare una correlazione tra un certo cedimento meccanico banalmente e una marca automobilistica oppure tra una certa strada e il fatto che lì ci sono certi tipi di incidenti tra l'altro nell'interfaccia di text mining ci sono anche delle viste di tipo statistico che consentono di rilevare per esempio dei trend quindi dal punto di vista temporale ad esempio una volta un richiamo della Toyota è stato fatto perché si vedeva un trend di crescita su tre mesi in particolari e si è scoperto poi che una componente che poi era il tappetino sotto l'acceleratore proprio in quei mesi era stato cambiato il fornitore quindi si incastrava in sostanza c'era quel piccolo ritardo quando lasciava l'acceleratore che aumentava la probabilità di fare un incidente quindi diciamo che è uno strumento che è in grado di far venire in superficie delle informazioni che comunque sono già presenti nel testo ma non sono immediatamente fruibili qui abbiamo un esempio è basato sul concetto di annotatori quindi la frase John si è fatto male alla caviglia sullo scalino attraverso una serie di stratificazioni di questi annotatori viene fatta prima un'analisi sintattica quindi se estraggo le componenti proprio grammaticali del discorso viene poi fatta una annotazione semantica quindi questo nome rappresenta una persona questo verbo rappresenta un tipo di danno una ferita questa è una parte del corpo ci sono poi degli annotatori di correlazione che in sostanza mi formalizzano questo concetto e quindi c'è un danno a una parte del corpo è chiaro che lo strumento può essere anzi spesso lo è arricchito per esempio con dizionari chiamiamoli custom in cui non so nell'ambito bancario si crea dei dizionari custom dove termini o sinonimi specialistici vengono esplosi nel loro significato in modo che poi questi annotatori abbiano maggiore efficacia un altro campo nel quale viene utilizzato per esempio in Germania la polizia di una città tedesca lo utilizza per filtrare tutti i rapporti delle forze dell'ordine relativi a crimini già eseguiti in modo da poter vedere se ci sono dei trend particolari ad esempio in quartieri della città relativamente a certe tipologie di crimini quindi è uno strumento che all'automazione quindi alla capacità di trattare grandi quantità dei dati aggiunge anche questa diciamo intelligenza tra l'altro questo software fa parte della diciamo è stato inserito in Watson che non so se avete sentito ma è quella macchina che in America diciamo ha rinnovato i fasti del famoso Deep Blue quindi adesso i scacchi non sono più di moda praticamente ha fatto partecipare questa macchina di IBM a un gioco a premi dove una domanda o meglio il gioco consiste un po' all'americana il presentatore dà la risposta e i concorrenti devono indovinare la domanda allora hanno fatto concorrere Watson contro i due diciamo campioni in carica degli ultimi anni e su tre giorni il primo giorno ha fatto un po' fatica poi alla fine è riuscito a vincere quindi in tempo reale analizzava quella che era la domanda proprio con questa tecnologia e ricercava quale poteva essere la potenziale come il contrario analizzava la risposta e ritrovava la domanda quindi è tecnologia che effettivamente funziona adesso lo stanno sperimentando nell'ambito sanitario quindi anche lì i vari non so se avete spero per voi di no io ho avuto a che fare con cartelle sanitarie e sono dei mallopponi almeno qui da noi di centinaia di pagine tutte di testo fitto diciamo un'analisi di questo tipo mi consente appunto di rilevare per esempio dei trend o delle particolari statistiche su particolari tipologie di malattie o se il trattamento è stato efficace o meno quindi per riassumere anche perché il tempo volge al termine abbiamo visto che una piattaforma documentale mi dà tutta una serie di servizi al di sotto le sorgenti informative possono essere degli ambienti eterogenei abbiamo parlato del content collector che è in grado di recuperare queste informazioni che vengono catalogate nella maniera più corretta come documenti o come record è possibile naturalmente integrare anche altre tipologie di dati provenienti anche da database strutturati quindi in sostanza questi servizi vengono applicati in maniera uniforme alle mie informazioni e vengono presentati all'utente attraverso delle interfacce che possono essere quelle a cui ho abituato quindi abbiamo parlato di office ambienti collaborativi oppure interfacce più specifiche sulla parte diciamo documentale o che mi danno una capacità di analisi è chiaro che queste interfacce poi possono andare a costituire parte di soluzioni quindi in sostanza quando parliamo di social content management non è che c'è un prodotto specifico che fa questo ma in sostanza sono una serie di funzioni che presentate all'utente gli consentono di lavorare o condividere queste informazioni in una modalità appunto più sociale più collaborativa quindi con questo direi che abbiamo parlato appunto di queste fasi che può attraversare la mia informazione quindi cattura attivazione socializzazione quindi condivisione analisi e governo e niente mi auguro che la presentazione vi sia stata utile ecco se grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti